L'arrivo del fuoco del Morrone, il 44esimo all'Aquila, che culmina con l'accensione del tripode della pace che dà la via alla perdonanza celestiniana il 23 agosto, è uno dei momenti più emozionanti e significativi della manifestazione. Un fuoco che parte il 16 agosto dall'eremo di Sant'Onofrio e che ripercorre le tracce al viaggio di San Pietro Celestino per arrivare all'Aquila. Oggi è stato presentato il percorso, tante saranno iniziative e novità anche per i tedofori, gli ultimi, che saranno due, che ha svelato Floro Panti, presidente del Centro Sud di Celestiniano. Quest'anno anticipiamo quello che è stato 40 anni fa, il corteo della bolla. Iniziamo proprio 40 anni, eravamo già alla quarta edizione della campestina della perdonanza e della fiaccola nel 1983. Quando iniziamo, quindi un particolare riferimento lo faremo lungo il percorso a questa ricorrenza, in sostanza. E chi lo porterà? Lo porteranno due persone che all'epoca, nel 1983, uno era un ragazzo che portò alla fiaccola nell'ultimo tragitto, Italo e Torre, che adesso non sta più qui all'Aquila. Io l'ho rintracciato e praticamente verrà qui e sarà uno dei due tedofori. L'altro, in omaggio a quello che è stato il sindaco dell'epoca, Tullio De Rubeis, che istituì la perdonanza dell'era moderna ed era presente lì a Collemaggio, all'arrivo della fiaccola, nel 1983, sarà il suo nipote che porta il suo nome, Tullio De Rubeis. Quindi i due tedofori che alla fine porteranno il fuoco a Collemaggio sarà quello che l'ha portato, il ragazzo che l'ha portato 40 anni fa e il nipote del sindaco che ha istituito la perdonanza 40 anni fa. Beh, è una tradizione addirittura più antica della perdonanza moderna e quindi siamo veramente orgogliosi di celebrare questo momento. L'appello ai giovani che devono sentire loro questa splendida manifestazione e unirsi e avere sempre più tedofori giovani sarebbe un segnale molto importante nel nostro territorio e anche al di fuori di questo.